Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il primo episodio di Gini. Ragazzi come vedete bilancia smart si collega al telefono come potete vedere adesso vi farò vedere tutto dal telefono. Super leggera, adesso venderemo 10 kg. Nel terzo esercizio abbiamo panca declinata, sempre con 40 kg. Cominciamo, è il duro per l'esercizio dell'esercizio, quindi in qualche caso è un po' peso, perché è un bel duro. Ragazzi eccoci qua, ultimo esercizio del quinto, apertura. Apertura però, queste saranno tre serie, ovviamente 12 kg a mano più, saranno tre serie che ne vedrete tutte e tre perché perché l'esercizio cambia nel senso, cambia in base alla panca. Prima serie con panca declinata, seconda serie con panca piano, terza serie con panca inclinata. Pertetto petto terminato, adesso passiamo agli addominali. Salve, ciao. Ciao